Sono Mauro Borgi, mi occupo della gestione finanziaria della Simpro SPA a stretto contatto con la direzione aziendale. Ho partecipato al corso sulla tesoreria, il quale mi ha dato degli spunti che potrò utilizzare durante il mio lavoro. Particolari interessi hanno gestato gli interventi dei relatori, delle realtà aziendali e anche gli operatori bancari che sono venuti a dare la loro esperienza.